Salve amiche e amiche, sono Ludovico Longhi, forse mi avete già conosciuto per qualche intervento nelle live del canale di Max Montana Project, che mi ha invitato a realizzare una rubrica mia personale che andrò a presentarvi ora a ora. La rubrica parla di cinema e ha come titolo Cioccolatini di cinema. La frase la prendo in prestito al favoloso personaggio di Forrest Gump, protagonista del omonimo film di Robert DeMakes del 94, che adotta questa filosofia di vita per la quale appunto l'esistenza è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti potrà capitare. Beh, è un po' anche la filosofia che adotta in questa mia rubrica, se avete la bontà di seguirla e di dimostrare il vostro credimento, è una proposta di pillole, in questo caso cioccolatini di cinema a sorpresa, cioè senza seguire un ordine prestaventito. Il primo cioccolatino che vi andò a presentare è un personaggio molto interessante e fondamentale per l'evoluzione del linguaggio cinematografico classico. Secondo molti storici del settore, addirittura il padre del cinema classico, ovvero sia David Warg Griffith. David Warg Griffith è una cineasta che nasce al finire del secolo XIX, è nel sud delle Kentucky e vive la sua infanzia a contatto con l'epopea, questa epopea del sud sconfitto, questa epopea del sud portatore dei valori, dei nobili valori del vecchio west, sconfitti dal nord industriale e moderno. Griffith è una persona colta, una persona che fino all'infanzia dedica molto tempo alla lettura e si innamora dei grandi novellisti dell'epoca. Charles Dickens, in concreto, e onorevole Balzac, che già pensavano la loro scrittura, i loro testi, i loro romanzi con una forte, forte pulsione scotica, con una forte sensibilità visuale. Non è un caso, lo ricordo, non è un caso che abbia nominato la questione del sud perché la famiglia di Griffith aveva partecipato correttamente il padre ai combattimenti della guerra civile, correttamente alla famosa battaglia di Gettysburg e questo avrà una importanza basica nello sviluppo degli argomenti, vedremo, degli argomenti dei suoi capolavori cinematografici. Comunque, fatto sta che il giovane Griffith, la passione per l'epopea del western e la letteratura e il teatro, lo porta a tenere un'aspirazione di drammaturgo e nella gioventù comincia a scrivere piersi teatrali e a proporle a varie compagnie di teatro e addirittura a venire contrattato come attore delle compagnie stesse. Foto sta che esordisce nel mondo, diciamo, dello spettacolo, precisamente in una delle compagnie cinematografiche americane dell'epoca, degli anni, dei primi anni del secolo, del XX secolo, ha un contratto per l'American Mutoscope Biograph nel quale si prevede una funzione, lui avrebbe dovuto fare lo sceneggiatore, ma all'inizio viene impiegato semplicemente come attore, vista la sua esperienza teatrale. Infatti partecipa come uno dei personaggi di un film, tra gli altri, che come era nella tradizione della Biograph, metteva in scena dei fatti di cronaca reali. Questo fatto di cronaca che mette in scena nel film in cui lui fa l'attore è intitola, tradotto letteralmente in italiano, salvato dal nido di un'aquila e racconta la storia di un bebè che viene rapito da un'aquila e viene nascosto nel suo nido e un gruppo di venturieri lo riscatta. Griffith fa la parte appunto del padre, del bambino. Potete vedere in questo fotogramma del film, la cosa interessante è osservare e apprezzare come la concezione della riproduzione o della ricostruzione cinematografica, anche di fatti diciamo, non inventati se no reali, viene costruita con un'idea di autarchia del quadro, cioè che tutti gli eventi devono essere inseriti dentro del quadro, cioè davanti alla macchina, alla macchina da presa, come se fosse una fotografia o come se fosse una scenografia, una scenografia teatrale. Potete apprezzare come il fondale, c'è un fondale diciamo con poca profondità e tutte le linee sono linee che seguono un solo punto di fuga. Bene, Griffith inizia come attore e quasi di immediato, quasi di immediato, gli viene proposto di fare anche il coordinatore, cioè la persona che coordina, il coordinatore di scena, quindi la persona che si incarica di coordinare tutte le funzioni dei vari attori, dei vari tecnici che stanno nel set. È quella figura che posteriormente verrà definita la figura del regista. Con la Biograph, dal 1908 fino al 1912, realizza oltre 450 film. Sono film, bisogna dire la verità, sono film che non superano, veramente superano i 15 minuti, sono film di una sola bobina, che lo obbligano a sviluppare sempre di più una certa complicità narrativa, sapere concentrare e sviluppare la narrazione in forma sempre più efficace, in forma sempre più, diciamo, con un meccanismo, con un linguaggio che si fa sempre più dinamico. Infatti passiamo, come potete osservare, passiamo da questa autarchia del quadro, in cui lui fa l'attore, a composizioni, sono altri due fotogrammi di due film che lui realizza nel XII, uno Moschettieri di Picalli, una specie di gangsta di New York ante Litteram e Il nemico invisibile, è una storia, diciamo, una storia di cronaca nera messa in scena dalla Biograph, dove potete dire che c'è già una tensione interna al quadro, cioè non tutta l'azione si conclude dentro del rettangolo della visione, se no che c'è questa dinamica tra campo e fuori di campo, c'è questa dinamica interna ed esterna al quadro, soprattutto nel secondo dei due fotogrammi, il nemico invisibile, in cui c'è su queste due ragazze minacciate, queste due ragazze interrogate per le sorelle Leesh, saranno due attrici feticio di Griffith, minacciate da un nemico non solo invisibile ma esterno al quadro, quindi si instaura questo dinamismo, ma questa è una cosa, un'assoluta novità nell'epoca ancora del cine, diciamo, delle origini, anche il cine del cosiddetto delle origini. Nel 1912 conclude la sua collaborazione con la Biograph perché già lui intuisce che il mezzo cinematografico è pronto per un tipo di narrazione di più ampio respiro che oltrepassi la bobina e che oltrepassi i 15-20 minuti e quindi fonda, quindi diciamo lavora con una compagnia leggermente più potente, la Mutual, che era anche la compagnia in cui lavorava Cepli, che gli permette di sperimentare narrazioni leggermente più lunghe, di due bobine o anche tre. Finalmente fonda, torno alla 13, 13-14, fonda una propria casa di produzione insieme a Max Sennett, che era il padre delle comiche, d'accordo, e Thomas Sims, diciamo il padre del western, d'accordo, fonda questa propria compagnia cinematografica che si chiama la Triangle. Con la Triangle ha la possibilità di autoprodursi i due suoi famosi capolavori. Il primo è la nascita della nazione, ispirandosi alla monumentalità scenografica, narrativa, compositiva dei film italiani dell'epoca. Vi ricordo che prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'Italia, la filosofia italiana era all'avanguardia del cinema mondiale, la filosofia italiana, ispirandosi soprattutto in Cabiria, film di Pastrone del 14, mette in scena un romanzo a lui molto caro, che è The Clansman, Uomo del Clan, che racconta un po' gli avvenimenti anteriori, contemporanei e posteriori alla guerra civile nordamericana. Quindi si parte dalla nomina di Abraham Lincoln, come Presidente degli Stati Uniti, lo scoppio della guerra civile e finalmente le conseguenze della guerra civile con la creazione, ahimè, del Cogus Clan come istituzione che ristabilizza un po' l'ordine, almeno nel Sud. Come potete immaginare, uomo del Sud, uomo che era vissuto di questa cultura, diciamo che propone una ideologia fortemente discutibile. Tant'è vero che il film, anche se un film straordinario per la composizione, per l'ariazione e per l'ariazione, è un film che ha delle forti implicazioni ideologiche, tant'è vero che venne fortemente criticato in tutti gli Stati Uniti, in una parte degli Stati Uniti. Una curiosità, in questo film collaborano moltissimi futuri cineasti, futuri registi, futuri personalità importanti del cinematografo, tra i quali per esempio John Ford, che fa una comparsa, tutte persone che erano apprendisti all'epoca, tra i quali anche Ralph Walsh, famoso regista degli anni 30, 40 e 50, che interpreta la parte, curiosamente la parte dell'assassino di Lincoln, il personaggio di John Wilkes Boat. Dicevo che questo film crea molto scalpore, crea molte critiche, al livello che Griffith si sente obbligato a realizzare un altro testo, un altro film, un poco scusandosi, un poco cercando di difendere la propria immagine, di far comprendere le sue ragioni e appellarsi alla tolleranza generale. Il film si chiama precisamente Intoleranza, perché? Perché va ricostruendo diversi episodi di intolleranza durante la storia dell'umanità. Sono quattro episodi che costruisce con un montaggio parallelo a incastro. Sono quattro episodi che si riferiscono concretamente al VI secolo a.C., la caduta di Babilonia, la passione di Cristo, qui nella passione di Cristo, la strage degli Ugonotti, d'accordo, nel XVI secolo, e finalmente una storia contemporanea. Sono gran parte dei episodi che finiscono in modo negativo, eccetto l'ultimo, che ha la possibilità di avere una happy end grazie all'intervento della tolleranza. Toleranza che compare anche come figura allegorica, come collageno dei vari episodi, molto instanziati temporalmente, ma incastrati tra di loro nel film, che viene interpretata come un'allegoria, l'allegoria di una madre che mesce la culla del figlio, il figlio sarebbe l'umanità. Il film è un film molto bello, è un film complesso, molto lungo, che purtroppo, proprio per la sua lunga durata e per una scarsa intelligenza e abilità distributiva, non ha il successo che meritava e decreta l'inizio della fine di questo grande autore. Posteriormente, nel 1909, comincia a realizzare una serie di film molto più intimistici, cioè con meno spettacolarità, ovviamente, rispetto ai due capolavori, e concretamente li può realizzare grazie alla fondazione di un'altra casa di produzione, anche questa condivisa con grandi attori, tre grandi attori del momento. Una era la coppia, la coppia d'America, era la coppia di fidanzati d'America, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, che era il grande attore avventuriero, l'attore che interpretava Zorro, l'attore che interpretava Simba del marinaio, eccetera, e ovviamente Charlie Chaplin, che aveva appena realizzato il monello e quindi era una regista e l'attore e personaggio più in vista del momento. Leonardo Diardi, che è una delle grandi case di produzione nord-americane, che dura la sua formazione, diciamo, industriale iniziale fino a meno, fino alla fine degli anni, degli anni sessanta. questo dimostra come realmente, anche in questo senso, avesse una visione molto, molto lunga, cioè l'idea di poter affidare la fortuna di una casa di produzione sull'abilità tecniche, attoriali dei propri protagonisti. Cosa ci lascia quindi David Ward Griffith dal punto di vista industriale? Beh, un certo numero di idee, principalmente l'idea che un solo uomo, cioè l'uomo orchestra, come faceva anche Melies, la persona che pensa, scrive e realizza e distribuisce e esibisce il film per conto suo, non può, non ha fortuna, non può esistere, viene sobravanzato dalle nuove tendenze industriali. Quindi il cinema come industria, l'industria del spettacolo, deve contare su diversi equip, d'accordo, e su tutti diversi dipartimenti all'interno della casa di produzione. Questo è il primo grande insegnamento. Il secondo è che, ovviamente, il spettacolo cinematografico, di fortuna, di grande successo, è il spettacolo narrativo, il cinema narrativo, un film, un tastofilmico, deve raccontare una storia che duri, grosso modo, intorno alle due ore. Questo è un altro grande... E finalmente che un testofilmico che viene rappresentato, viene proiettato in un grande teatro, perché nel caso di Nascita Nazione o Intolerance già si era scritta una partitura, si era scritta una partitura apposta per i film, ha bisogno di un grande teatro, con una casa, con un'orchestra, e quindi viene esibito non più e non solo nei cinema o nei teatri come Nichelodio o nei teatri perifia, ma nei grandi teatri di opera cittadini, per cui avrà anche una critica specializzata nei grandi giornali, nei giornali generalisti, e soprattutto avrà una forte ripercussione non solamente nel mondo dello spettacolo, se non anche nel mondo, neanche sociologicamente, quindi nella società, nella moda e soprattutto nel modo di pensare, quindi avrà anche una forte valore ideologico. Per finire, dal punto di vista del linguaggio, ovviamente l'importanza di avere un connubio con un'equipe tecnico, confidava ciecamente Griffith nel proprio direttore di autografia, Billy Bitzer, e sapeva perfettamente cosa poteva chiedergli e cosa non, quindi un forte connubio, cast tecnico e cast artistico. Abbiamo visto prima Lilian Ghish, tra le altre attrici, Lilian Ghish e altri attori che lavoravano frequentemente con Griffith, ai quali poteva chiedere sempre di più una citazione contenuta e non esagerata, non nevrotica, come avveniva nei film, diciamo, tra virgolette muti. Una cosa importantissima è l'idea di usare, per una maggiore chiarezza narrativa, la scala di piani, cioè passando come avveniva anche in letteratura, passando dalle descrizioni del contesto, d'accordo, quindi i grandi piani generali, a piani sempre più stretti che passassero dalla descrizione all'azione. I piani, diciamo, medi sono i piani in cui si svolge l'azione, fino ad arrivare ai piani più chiusi, quindi più stretti, quindi il primo piano o il primissimo primo piano dove si intuisce, si intuisce, si legge il pensiero e i sentimenti dei protagonisti. Il primo piano è il meccanismo, è l'escamotage tecnico che dà grande valore all'attore cinematografico rispetto all'attore teatrale. Un'altra innovazione è la codificazione definitiva del record, cioè della fluidità del passaggio da una quadratura all'altra, collegata con o il movimento o lo sguardo, d'accordo? In questo caso abbiamo un esempio, il film viene dal film La nascita di una nazione, quando un personaggio guarda una fotografia o legge una lettera nel richiama, richiede come piano successivo la visione della foto o della lettera stessa e questo si decodifica in modo molto molto naturale, oggi giorno in modo molto naturale, la cosa più semplice in questo mondo, ma all'epoca ovviamente non era così. Diciamo che questa è una codificazione che la dobbiamo aggiudicare proprio a grande griffi. E come ho detto prima, non solamente la codificazione delle possibilità del montaggio parallelo, quindi incastrare in uno stesso discorso narrativo avvenimenti molto distanti nel tempo e nello spazio, con una connessione che si vedrà alla fine, ma addirittura di collegare tra di loro diverse situazioni contemporanee ma che avvengono in spazi diversi e che tra l'altro sono connesse, come per esempio in questo caso uno dell'episodio di Intolerance dove c'è un condannato a morte che sta a punto di venire impiccato e contemporaneamente stanno arrivando dei testimoni che potranno scagionarlo dalla impiccagione. Quindi alternando queste diverse situazioni si mantiene l'interesse, si mantiene la tensione e si mantiene il pubblico incollato alla storia. E questa è un'altra grande innovazione che ci regala il nostro David Ward Refit. Spero dunque che questo cioccolatino sia stato di vostro gradimento, sia stato molto dolce e se vi piace e spero poter continuare con altri in una delle prossime puntate di questa rubrica. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao a tutti!